è sicuramente un lavoro sulla memoria, è un lavoro sull'autobiografia, credo che sia importante cominciare dicendo che il personaggio di Adriana è nessuno, che sono io accanto a Penelope, e sì, è ispirato alla mia infanzia, è la mia storia, è chiaramente trasfigurata, quindi ho cercato di trovare una chiave che potesse non essere autoreferenziale, quindi parlare soltanto di me, ma ho cercato di, come ho fatto in ogni film, di rappresentare in chiave un po' più universale dei temi che mi stanno molto a cuore, quale per esempio appunto la migrazione, io arrivo da lì, la migrazione di un'anima che può essere anche una transizione, c'è il movimento che facciamo da uno stato all'altro, e quel movimento per me è un movimento molto importante, che è un movimento che facciamo tutti, e quindi sono temi a me molto cari e in questo film li ho ripresi. Credo che il mio personaggio non sia affatto il personaggio di una donna pazza, in lei c'è sufficiente follia per poter sopravvivere la vita in cui si ritrova, la follia che le consente anche di stabilire una relazione con la figlia, lei si sente intrappolata nella famiglia, nella casa, nel suo corpo, nella situazione in cui si trova a vivere, non ha un piano B, non ha un piano di fuga, l'unica fuga che ha è attraverso lo schermo televisivo, che la ricollega a un altro mondo, al mondo dell'arte, della musica, della danza, del sogno, qualcosa che è più vicino alle persone di cui sogna. Se lei potesse vivere la vita che appunto vorrebbe, se la società glielo consentisse, è una vita che forse la porterebbe anche a essere diversa da com'è, non è affatto pazza, anzi è oppressa da tantissimi punti di vista e semplicemente non ne può più, perché sente di dover quasi fingere ogni giorno davanti ai figli e non ce la fa più, ecco perché questo la fa piombare in una profonda depressione, deve andare in una clinica, deve separarsi da loro per fare qualcosa e c'è una scena davvero strappalacrime perché rappresenta così tante realtà di oggi, ci sono tantissime donne in tutto il mondo che sono intrappolate nelle loro case, che fingono di fronte ai loro figli per mostrare che le cose non vanno poi così male e lo fanno per sopravvivere, conosco situazioni di questo tipo, sono storie terribili, questo è solo uno dei tanti temi importanti affrontati dal film, quindi anche quello della violenza tra le mora di casa e ne parla in un modo che davvero mi ha spezzato il cuore quando ho letto la sceneggiatura. L'incontro con Emanuele è venuto quattro anni fa e da subito mi sono sempre trovata bene con lui perché è una persona veramente speciale e anche tanto bravo. Questo personaggio all'inizio ero un po' turbata nel farlo, solo che poi Emanuele mi ha spiegato un po' di cose e da lì mi è piaciuto un sacco perché per me è stato tanto importante rappresentare Emanuele quando era piccolino. Ho interpretato così tante madri già quando ero molto giovane, con Pedro ho fatto sette film e in cinque di essi interpreto il ruolo di una madre, credo non sia una coincidenza. Ho un senso materno molto spiccato e sono anche affascinato da quello che avviene anche all'interno di ogni famiglia perché in ogni famiglia succedono cose tutte affascinanti. Tutto questo fornisce tantissimo materiale a qualsiasi tipo di film perché c'è un mondo infinito da scoprire. Il mio fascino per questo tema, unito a questo mio forte istinto materno, mi ha sempre guidato. Ho sempre davvero anche desiderato diventare madre sin da una tenera età, è qualcosa che mi appartiene. Oggi la mia famiglia per me è importantissima, la cosa più importante per me, io stessa sono diventata madre, effettivamente ho interpretato sul grande schermo tante madri e per me ogni volta è un grande onore farlo. Questa madre rappresenta tante donne contemporaneamente, tanti tipi di madre, poiché si può vedere quello che è davvero internamente, quello che potrebbe essere, quello che vorrebbe essere. È un personaggio così sfaccettato e complesso anche nel modo in cui è stato scritto. Quando ho letto la sceneggiatura mi sono subito innamorata di lei, era già così viva sulle pagine e ho cercato quindi di fare del mio meglio lavorando al film con Emanuele. Ritenevo questo film molto importante da fare. Il quarto film che faccio con Emanuele e mi chiamo a lavorare con lui, ogni volta che facciamo un film insieme il personaggio che devo interpretare io poi non è la cosa più importante, la cosa più importante è un po' tutta l'avventura di fare un film con lui e dico sempre che questa avventura comincia da quando leggi la storia, Emanuele scrive delle storie bellissime, già scritte, sono bellissime da leggere lì e appunto quando le leggi diventi subito hooked, sei già lì dentro. e poi comincia un lungo processo che è bellissimo e che non succede sempre nel cinema, Emanuele comincia il film mesi, mesi, mesi prima e si entra dentro questa specie di nave spaziale e si comincia a viaggiare e poi si fanno le prove, si fanno i viaggi per conoscere lei e poi si prova e poi si parla, si mangia, si fanno un sacco di cose insieme, cioè il lavoro è lunghissimo e poi dopo le prove si comincia a girare lì un'altra parte di quel lavoro, io semplicemente devo fare un personaggio in queste avventure e certe volte è più facile, certe volte è più difficile, devo dire è sempre difficile perché lo voglio fare benissimo per lui, però lui è bravissimo a dirigere tutti, lui è proprio bravo a dirigere, quindi mi fido di lui e cerco di non deluderlo ed è difficile, poi io non sono molto vicino come persona a questo personaggio, ma non importa, non sono vicino a nessuno dei personaggi che ho fatto con lui, tranne forse il primo, ma non vuol dire, lui è bravo e lui ti aiuta, ti porta per mano a me e anche a tutti gli altri attori che non hanno mai recitato e non sono magari neanche attori, eccetera, li porta per mano a essere quel personaggio, a esserlo veramente e io devo dire, anche io ho fatto un lavoro sulla memoria perché io sono sempre stato figlio, poi sono diventato padre, adesso sono padre, i miei genitori sono morti, io adesso sono in una, ho dovuto fare un viaggio indietro quando ero figlio e però facendo il padre, questa è stata una cosa bellissima anche se il personaggio era brutto, però per me era un viaggio, era un viaggio pazzesco nella mente di questo, di mio papà, però anche se mio papà non era così, ed è stata una bellissima, una bellissima avventura come sempre con Emanuele. Lei vuole proteggerli e anche fa finta di non vedere alcune cose in loro, in realtà vede tutto, percepisce tutto, soprattutto nel personaggio di Luana e Luana vede tutto in sua madre, e per anni vivono facendo finta di non vedere cose che in realtà vedono, anche i bambini, anzi, gran parte del film è raccontato dal punto di vista dei bambini, è qualcosa di terrificante perché davvero è qualcosa che arriva tantissimo agli spettatori, questa paura profonda che possono vivere i bambini quando le cose non vanno bene in famiglia, quando c'è qualcosa di profondamente difficile da vivere. Magari quando assistono a scene terribili di violenza domestica, come il caso del personaggio di Luana, ebbene è come se si creasse un pensiero costante che non li abbandona mai, una sorta di ritmo che li ossessiona. Tanti bambini possono raccontare esperienze del genere e credo che il modo in cui si è riusciti a portare sullo schermo tutto questo, quello che questi bambini vedono è incredibile. Anche il mio personaggio a un certo punto diventa le stesse un bambino, come si regredisse, perché a un certo punto anche lei appunto fa finta di non vedere cose che invece vede benissimo, quindi mostra reazioni, anche ad esempio ci sono scene, non so, cosa farebbe un cane? Un cane marca il territorio, perché in un certo senso dentro di sé, ecco mi scuso, ma vorrebbe che magari suo padre, così come non ci fosse, vorrebbe essere lui il padrone di casa, e magari ha salito anche dal terrore, dalla paura, o fosse la mia interpretazione, ma è incredibile il modo in cui il personaggio attraverso le azioni, questo ragazzino manifesta quello che sta provando. Cosa farebbe appunto un cane in un corridoio per segnare il territorio, oppure una ragazzina col cibo? Perché loro non si sentono al sicuro, sentono che il futuro è incerto, non sanno cosa succederà loro quando cresceranno, si chiedono che cosa succederà se c'è così tanta incertezza, per quanti anni dovremo ancora vivere questa paura, questa incertezza, quanto andrà avanti tutto questo? Perché, ebbene, i genitori sono coloro che dovrebbero darci sicurezza, ma non sembra così, quindi il rapporto con ogni figlio è molto diverso, ma ci sono punti in comune, perché noi tutti e quattro insieme, i bambini e io diventiamo quasi tutti insieme bambini, per fuggire da quella realtà così pesante e spaventosa per poter sopravvivere. E ci sono tantissime cose anche che non vengono dette esplicitamente, e anche tra di noi durante le prove ci sono punti che non sono mai stati, diciamo, spiegati, ebbene Emanuele magari vi ha parlato di altre cose che non sono nella sceneggiatura, che non riguardano la sua vita, anzi ci ha chiesto di attingere alle nostre vite e lui riesce sempre a farlo al momento giusto, poco prima di una certa scena, una scena e magari ti dice una cosa che pensi non c'entra in nulla, ma poi dopo tre appunto ripresi, ah è per questo che mi ha detto questa cosa, oppure non so, io gli ho raccontato dei ricordi anche della mia vita e lui davvero è intelligentissimo e lui non manipola le persone, assolutamente no, anzi trovo che sia davvero fantastico nel modo in cui si relaziona anche con i bambini, perché è molto protettivo nei loro confronti, ogni secondo, ogni momento. Io ho cercato di trascorrere anche del tempo con i miei figli sullo schermo per sviluppare un rapporto anche che fosse poi il più verosimile possibile nel film, quindi il rispetto già a Emanuele per tantissimi motivi e fra questi è anche il modo in cui riesce a prendersi cura dei bambini sul set in ogni momento e questo è molto importante quando dei bambini recitano. e questo è molto importante quando abbiamo i bambini facendo film. grazie mille grazie mille grazie grazie mille grazie mille Grazie a tutti